Vediamo più nel dettaglio che cosa è possibile fare con gli animatori di testo. Qui abbiamo un testo di due parole che è già centrato ed è anche allineato al centro. Allora, andiamo innanzitutto ad aggiungere un animatore e usiamo l'animatore della rotazione. Come al solito, selezione di intervallo, diamo un keyframe all'inizio e gliene diamo un altro. Alla fine, perfetto. Ovviamente in questo momento non sta facendo assolutamente nulla, perché non gli abbiamo ancora dato una rotazione. Andiamo a dargli una rotazione di 180 gradi e aggiungiamo anche una posizione. Allora, tiriamo giù. Quello che sta succedendo a questo punto è questo. Il nostro testo da una posizione iniziale arriva a una posizione finale. Potremmo aggiungere delle altre cose, ma adesso quello che ci interessa vedere è come l'animazione che abbiamo fatto influenza il nostro testo. Possiamo vedere qui che abbiamo due piccole x. Queste x dipendono dalle impostazioni che abbiamo dato precedentemente, ovvero raggruppa per punti di ancoraggio. Normalmente è impostato per carattere. Quando l'abbiamo di default impostato per carattere vediamo che ogni lettera ha il suo punto di ancoraggio. Significa che ogni lettera arriverà in posizione ruotando intorno al suo punto di ancoraggio. Quindi l'opzione raggruppamento punti di ancoraggio stabilisce se la nostra lettera deve ruotare intorno al punto di ancoraggio della lettera, del carattere, oppure del mondo, ovvero della parola. In questo caso vedete che la rotazione è diversa perché ruota intorno al punto di ancoraggio centrale della singola parola. Oppure della linea. In questo caso le lettere ruotano intorno al punto di ancoraggio centrale dell'intera riga. È possibile impostare anche su tutto nel caso ci fossero più righe, nel caso fosse un testo più complesso. Allora, questo per quanto riguarda il raggruppamento. Abbiamo poi l'animazione. L'animazione può essere basata sui caratteri, e quindi in questo caso vedete che le lettere vanno su una per volta, ma qui può essere impostato su parole, per esempio. E quindi qui avremo la parola che si sposta intera. E ogni lettera sta ruotando intorno al proprio punto di ancoraggio, perché qui abbiamo settato carattere. Se andassimo a settare mondo, ogni parola ruoterebbe intorno al singolo punto di ancoraggio della parola. Se andassimo invece a settare linea, le due parole si sposterebbero come parole, perché qui abbiamo impostato parole, intorno al punto di ancoraggio della linea. Ma se invece andassimo a settare riga, ora l'intera riga gira intorno al punto di ancoraggio della riga. Questo è il livello di personalizzazione che è possibile raggiungere con gli animatori. Grazie. Grazie. Grazie.